Riccardo Padovano, sciopero dei balneari, riuscito? Al 100%, quindi come vedete alle mie spalle adesso già abbiamo riaperto gli ombrelloni, quindi abbiamo creato un disagio così gentile, possiamo dire. L'abbiamo chiamato lo sciopero gentile. Sciopero gentile ma motivazioni forti. I balneatori anche in Abruzzo hanno chiuso gli ombrelloni per due ore stamani per protestare contro il mancato intervento del governo nel dare certezze alle imprese del settore. Gli ombrelloni sono stati riaperti solo alle 9.30, due ore dopo l'inizio ufficiale, in seguito alla mancata risposta, dicono i balneatori del governo, entro la pausa estiva, alla richiesta di un intervento normativo sull'annose risolta questione delle concessioni. I balneari infatti hanno scelto la via dello sciopero per protestare contro il governo Meloni e la possibilità di mettere a gara le concessioni balneari che dovrebbero scadere alla fine del 2024. Ma la categoria si spacca se Sib Conf Commercio e Fiba Conf Esercenti hanno imboccato la strada della mobilitazione e altre sigle come Asso Balneari, Feder Balneari e CNA si sfilano parlando di iniziativa spot. L'orario scelto, dice Riccardo Padovano, presidente Sib Conf Commercio Abruzzo, è stato il meno affollato della giornata e comunque nelle due ore di chiusura si è potuto andare in spiaggia dove sono stati presenti i bagnini di ombrelloni e lettini però sono rimasti chiusi per due ore. Un sciopero gentile ma molto sottile per richiamare l'attenzione della politica perché è giusto che la politica affronti questo problema nostro assumendosi tutta la responsabilità politica e amministrativa e che tenga conto che questa brutta immagine di questa mattina avere gli ombrelloni chiusi, immaginate voi una spiaggia senza ombrellone, immaginate una spiaggia senza questa balneazione attrezzata, ah sì forse ci saranno i grandi gruppi che verranno a gestire le spiagge beh forse allora per entrare in spiaggia bisogna pagare il ticket, quello che effettivamente qui non è qui ci sta l'impresa familiare che ha costruito questa attività professionale partendo da zero adesso ci si dice andatevene a casa con una mano davanti e uno di dietro io credo che non debba essere così, bisogna costruire adesso una norma chiara che consenta anche a chi va via di avere un giusto indennizzo perché è giusto che queste spiagge prima abbandonate, oggi diventate una risorsa per l'Italia possa essere riconosciuta a chi ha fatto questo, almeno un giusto riconoscimento Padovano, gli utenti come l'hanno presa? Lei ha voluto anche rispondere ad alcune critiche Beh certo, gli utenti si sono un po' irritati, però ho detto loro, guardate che poi questi utenti sono utenti che vengono qui al mare da 30 anni, qualcuno, qualche utente che è venuto da fuori chiaramente si è seccato di vedere questa cosa, abbiamo visto questa mattina clienti che nell'albergo di fronte, però ci sono stati clienti, un signore di Torino che ha detto vabbè è una protesta, siamo, d'altronde è un'ora di attesa, facciamo due passi e poi sono tornati Sono previsti altri giorni di sciopero? Abbiamo deciso ieri sera che lo sciopero previsto per il 19 e l'ultimo per l'ultima settimana di agosto l'abbiamo sospeso perché abbiamo avuto un giusto riscontro attraverso i media e quindi abbiamo detto la nostra doveva richiamare l'attenzione, l'attenzione l'abbiamo richiamata, adesso andiamo a lavorare ma dal primo settembre mettiamoci subito al tavolo, governo Presidente Meloni dia seguito a quello che aveva detto durante la sua campagna elettorale